Il Moconesi per la prima volta il prossimo anno giocherà nel campionato di eccellenza. È il verdetto scaturito ieri dopo il 3-1 contro il Casarza nel campionato di promozione Girone B. I Fontanini con 62 punti conquistano il salto di categoria. Domenica prossima la festa sarà al Colombo di Ferrada dopo la partita contro la Rivarolese, seconda forza del campionato. Ma questo è solo l'ultimo dei verdetti calcistici del fine settimana, iniziato sabato con la promozione della Cogornese in prima categoria dopo la vittoria per 3-1 contro il Real Deiva grazie alle reti dei due Brizzolara. Grande festa in campo e negli spogliatoi per i ragazzi allenati da Roberto Ruben Padi al fischio finale della gara. Veramente è stato un campionato che se la siamo portati fino all'ultima giornata e giustamente anche oggi loro abbiamo trovato un avversario molto ostico, non ci ha regalato niente. Fino alla fine ce la siamo sudata, è tutto merito nostro, non dobbiamo ringraziare nessuno perché nessuno ci ha regalato niente, ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa e siamo molto contenti. Gli altri verdetti del campionato di seconda, il Levanto ha conquistato la finale play-off mentre il San Lorenzo della Costa e il Cornia prodano la semifinale play-off. Borgo Rotondo e Moniglia retrocedono in terza categoria. Sempre sabato si è giocata la finale play-off di terza categoria tra Intella e Panchina. Il match è stato vinto dalla Panchina con una rete di Ottavio Bancalari a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. La Panchina ha conquistato il secondo posto in classifica. Al triplice fischio finale è scoppiata la gioia dei giocatori e dei tifosi sugli spalti della colmata di Chiavari. Che campionato è stato questo traendo un bilancio? Beh, è complesso. Noi abbiamo regalato veramente tanti punti, però abbiamo avuto la forza di arrivare in fondo e con la voglia giusta per poterlo vincere. Adesso come si guarda i prossimi mesi e quindi la preparazione per l'anno nuovo? Beh, sicuramente ora ci prendiamo una meritata vacanza perché è stato lungo. O poi c'è da attrezzare una squadra, ma io credo in questi ragazzi e non penso sarà da modificare più di tanto.